Sono convinto che questo tipo di riconoscimento unanime è sempre e direttamente, inevitabilmente, connesso al declino. Viene dall'Argentina, dal suo paese, Salas. Salas, è sicura? Vogliono proclamarla cittadino illustre di Salas e la invitano a tenere un discorso per l'anniversario del paese. È da molto che non ci va. Sì, quasi 40 anni, sono scappato a 20 e non ci sono più tornato. Credo di aver fatto una sola cosa nella mia vita, scappare da quel posto. Ci vado. Ed ecco a voi, vincitore del premio Nobel per la letteratura e appena proclamato cittadino illustre di Salas, Daniel Mantovani! Whisky! Titi! Antonio! Stasera cena all'Associazione Rurale. Giovedì, la mattina premiazione del concorso di pittura qui in municipio e poi la seconda lezione. Qualcuno ha delle domande? Sì? È vero che l'infelicità è lo stato d'animo migliore per la creatività. Hai visto Irene? Sì. Ci siamo visti ieri e ci siamo raccontati un po' di cose. E come l'hai trovata? Bene. Bene. Guarda un po' cosa qua. Delle testine di agnello. Tutta l'opera di questo milionario è stata basata sulle peggiori calunnie alla sua stessa comunità. Cacassotto! Filmi! Vi prego! Sali avanti. Andiamo. Corri pronto!